Questa doveva essere una residenza per anziani e invece è un eco-mostro lasciato al totale abbandono e soprattutto chiunque di noi e soprattutto chiunque tra sbandati, spacciatori, eccetera, può entrare. Non mi credete? Seguitemi! All'interno della prova della presenza di rom sbandati, drogati, potete vedere a terra bottiglie, rifiuti, cibarie e persino biciclette rubate. Al piano di sopra invece si può chiaramente vedere che ci sono materassi e giacigli, perché qui la gente ci dorme. E i cittadini hanno davvero paura e sono esasperati, ma il comune non fa assolutamente nulla. I cittadini qui hanno visto rom spacciatori, drogati, sbandati, entrare ed uscire di continuo, persino persone nude a pochi metri dalle scuole materne. Beh, è normale, penso, avere paura e chiedere che venga messo in sicurezza l'edificio. Il comune in tutto questo cosa fa? Questo quartiere da anni chiede una scuola media. Questo edificio a metà è costruito, perché non farla proprio qui?